E' sbarcata nella notte nel porto di Gallipoli la nave Blue Sky, carica di circa 970 migranti, tra i quali molte donne e molti bambini. L'SOS è stato lanciato ieri mentre l'imbarcazione viaggiava a largo di Corfu. La nave, battente bandiera Moldava, secondo quanto riferito dai migranti, sarebbe partita dalla Turchia e poi abbandonata alla deriva nel canale di Otranto dagli scafisti. Dopo lo sbarco, al termine dell'interrogatorio, un uomo è stato arrestato e sospettato di essere uno degli scafisti. A guidare le operazioni di attracco sono stati gli uomini della Capitaneria di Porto e della Guardia Costiera, che sono saliti a bordo a circa 3 miglia dalla costa di Santa Maria di Leuca, col supporto di elicotteri della Marina Militare e dell'Aeronautica. Insomma, una tragedia evitata, poiché la nave era stata abbandonata con il motore bloccato a velocità di sei nodi e diretta verso le scogliere fra Tricase e Leuca. Tutto questo avrebbe potuto causare una collisione e di conseguenza la morte delle persone a bordo. I profughi hanno dichiarato di essere di nazionalità siriana e pakistana. 130 sono stati ricoverati negli ospedali di Gallipoli, Lecce, Tricase, Copertino e Casarano per ipotermia. Tra loro ci sono 35 bambini, molto piccoli, in cura per grave ipotermia e una decina di donne incinta. Tutti gli altri sono stati trasferiti in centri allestiti nelle palestre di tre scuole di Gallipoli.